Con l'iniziativa Innamorati in Toscana, i ristoratori pratesi di vetrina toscana a tavola hanno proposto ai propri clienti ricette e menù interamente dedicate agli innamorati. Noi siamo stati in due ristoranti della città laniera e siamo andati a conoscere questi piatti. Signora Giuseppina, cosa mangiano gli innamorati? Cosa avete preparato per loro? Mangiano un po' di tutto, diciamo così, le signore magari preferiscono cose più leggere, noi facciamo delle zuppe, poi dopo anche delle polpettine di ricotta, questo è un piatto molto preferito dalle donne, ecco diciamo così. Invece i ragazzi preferiscono più la pasta, un piatto magari, non so, peposo, queste cose qua, ecco. Sono piatti che non si gustano solamente a San Valentino ma si possono gustare tutto l'anno? Sì, sì, si gustano tutto l'anno. Noi per San Valentino abbiamo fatto un po' un menù più particolare, diciamo così, con delle cose un pochino più inerenti all'amore. Abbiamo fatto degli strozzapreti al sugo medievale che è un sugo bianco molto speziato, poi abbiamo fatto anche la faraona al mandarino che è un nostro piatto un po' che ce lo richiedono. Questa faraona al mandarino l'ha creata lei, l'ha ideata lei questa ricetta? Sì, sì, mi è venuta così, a me piace ogni tanto fare qualche esperienza nuova, provare dei piatti così, mi metto lì in cucina quando ho un momento libero e sperimento, diciamo così. Quindi gli innamorati preferiscono i piatti tipici toscani? Riferiscono i piatti tipici toscani poi che sono alla ricerca di cose diverse, che qualche volta diciamo si rimangano contenti, qualche volta no, però diciamo generalmente sono molto soddisfatti di questi piatti nuovi perché si esce fuori dalla consuetudine d'oggi giorno, diciamo le solite cose che viene proposto nei vari locali. E a me mi sembra, tutto sommato sono molto, diciamo di un giorno anche se lì per lì sembra un fatto commerciale, però insomma ritrovarsi in determinati ambienti, tipo il nostro, fa molto piacere a ragazzi. Gli innamorati toscani che cosa possono gustare? Qui da noi abbiamo preparato questi due piatti e un dolce della tradizione pratesse, abbiamo preparato dei tortelli di patate fatti al sugo di papero, un polpettone e abbiamo preparato delle peschine di prato che sono nella tradizione della pasticceria pratesse. Queste specialità dedicate a chi si ama sono difficili da preparare? Per quanto riguarda la manualità, la difficoltà non sta appunto nella manualità quanto magari nella passione, nella reperibilità degli ingredienti di ottima qualità che compongono i piatti. E fondamentalmente tutte le ricette di grande tradizione e del passato non hanno una grossa difficoltà dal punto di vista della composizione e della struttura nella cottura. Ciò che conta alla base è proprio il rispetto dell'alimento, non inquinarne l'anima attraverso i ricordi del passato e quindi mantenere un filo diretto fra noi e il ricordo. Se si rispetta questo la difficoltà viene meno perché ovviamente non è né Haute Cuisine né la Nouvelle Cuisine più sfrenata per intendersi. Quindi che cosa troviamo qui su questo tavolo? Bene, su questo tavolo troviamo da un ottimo primo come aveva già annunciato Giovanni, che sarebbero questi tortelli di patate di grande tradizione toscana, divisi fra Mugello e Casentino nelle loro origini, fatte con sugo di papero, tipico pratese. Abbiamo un polpettone di manzo, anch'esso tipico toscano, un piatto che ricorda la tradizione, un piatto che è emblematico, il polpettone come le polpette della cucina toscana, la cucina del riciclo, la cucina della parsimonia e poi abbiamo un altro dolce tipico prettamente pratese che è la pesca di prato, un dolce tra l'altro che si rifà a un altro prodotto tipico della zona che è l'Archemers Fiorentino ed è uno dei pochi dolci al mondo che presenta come ingrediente primario questo tipo di liquore.